Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Leonardo Bardazzi. Per il momento il traffico scorre regolare in Fipilì e in tutta la rete autostradale toscana. In Fipilì restringimento di carreggiata nel tratto tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina per lavori in corso, possibili disagi per la viabilità. In A1 tra Badia e il bivio A1 variante di valico Baccheraia in direzione Bologna personale su strada per lavori. In A11 tra Firenze Ovest e il bivio A11 Firenze Nord in direzione Firenze c'è un veicolo fermo in avaria. Ricordiamo che fino al 15 aprile è in vigore l'obbligo di catene a bordo o l'uso di pneumatici invernali su autostrade, superstrade, statali e extraurbane. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!